Equità sociale, premialità per chi ha scelto di fare del Piemonte la propria terra e quindi nuovi criteri per l'assegnazione dell'appartamento di edilizia residenziale. Sono le novità più significative della nuova legge sulla casa approvata dal Consiglio regionale, frutto di anni di lavoro da parte dell'assessorato alle politiche per la casa. Il provvedimento rivede in maniera significativa i punteggi di assegnazione degli alloggi, con l'obiettivo di premiare i cittadini aventi diritto alla casa di qualsiasi nazionalità che risiedono in Piemonte da 15, 20 o 25 anni, avendo contribuito allo sviluppo socio-economico del territorio. Si prevede anche l'assegnazione di un punteggio maggiore ai nuclei familiari monogenitoriali con figli minori a carico. C'è una legge sulla casa moderna che va a tutelare il bene più importante delle famiglie. La casa da sempre è un bene che noi non vogliamo tassare, è un bene che vogliamo difendere e soprattutto è un bene che vogliamo garantire come diritto per quelle persone e per quelle categorie più fragili. Un altro punto saliente è il contrasto all'illegalità. L'assegnatario non potrà più possedere beni mobili come automobili o motoveicoli inquadrati nella categoria dei beni di lusso. Finalmente stiamo portando avanti dei principi nei quali credo moltissimo, quindi tutta una serie di azioni volte a tutelare la famiglia, volte a lottare contro l'illegalità attraverso anche l'esclusione di tutta una serie di alloggi dall'applicazione della 3 del 2010 affinché poi le forze dell'ordine possano fungere da sentinella rispetto alla legalità perché io devo dire in questi anni ho riscontrato tanta insicurezza nelle case popolari. Sono aperte per 2.500 neopatentati piemontesi le iscrizioni ai corsi di guida sicura per diffondere e promuovere la cultura della sicurezza stradale. Requisiti richiesti avere tra i 18 e i 29 anni essere residenti in Piemonte, aver conseguito la patente di tipo B dopo il 1 gennaio 2019 e compilare la domanda presente sul sito della regione. A ogni partecipante viene richiesto il pagamento di un contributo di 48,72 euro mentre i restanti 146,16 sono a carico della regione che ha stanziato 490.000 euro. La sede dei corsi è il centro di guida sicura Motoroasi Piemonte a Susa. La regione è impegnata da diversi anni nel migliorare le infrastrutture insieme alle province e ai comuni. Abbiamo deciso di fare uno step ulteriore, quello di investire sui nostri giovani che sono dalle statistiche la fascia demografica che ha maggior incidentalità. E allora abbiamo proposto un corso di guida sicura come si faceva molti anni fa in questa regione in cui un giovane potrà passare una giornata di 8 ore con istruttori professionisti e simulare tutte le situazioni di guida. Alla presentazione è intervenuto in qualità di testimonial Dindo Capello, tre volte vincitore della 24 ore di Le Mans. Sottoscritta in prefettura la convenzione attuativa del patto per la sicurezza urbana di Turino, firmato lo scorso 29 agosto tra la prefettura, la città e la regione. In questo modo si dà il via al finanziamento regionale di un milione di euro per l'acquisto di autovetture e motoveicoli destinati a polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale per i servizi di controllo del territorio e di prevenzione della criminalità. Un'altra parte di risorse verrà poi utilizzata per implementare il sistema di videosorveglianza comunale con l'introduzione di un software di lettura targhe. 16 nuovi mezzi per le forze dell'ordine che potranno lavorare in maniera ancora più efficiente nelle zone interessate a problemi di criminalità, immaginiamo Torino Nord così come previsto nel protocollo e siamo sicuri che con questo nuovo stanziamento la città potrà essere più sicura. Ne aggiungeremo un altro tra poco, un altro milione, 500 mila destinato di nuovo per l'utilizzo e l'acquisto di mezzi e 500 mila per gli straordinari per le forze dell'ordine così da poter garantire la disponibilità economica per fare lavorare le donne e gli uomini delle forze dell'ordine. La Regione Piemonte chiede il riconoscimento della calamità naturale per la siccità perdurante che colpisce da mesi il territorio provocando grandi difficoltà in alcuni settori dell'agricoltura ad esempio quello vitivinicolo. Sono molte le aziende che registrano cali importanti nella produzione, per questo abbiamo stabilito di chiedere al Ministero dell'Agricoltura la dichiarazione dello stato di calamità, affermano il Presidente Alberto Cirio e l'Assessore Marco Protopapa, che al Grattacielo Piemonte hanno incontrato i principali rappresentanti del mondo vitivinicolo, vignaioli piemontesi, Piemonte Land of Wine, Associazione dei Comuni del Moscato e Cantine Sociali. Secondo le associazioni si tratta di una siccità sempre più dannosa che da circa due anni causa una riduzione consistente delle rese e quindi del reddito per le aziende stesse. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS